Oggi parla Powell e poi giovedì ci sono i dati del PIL degli Stati Uniti, attesi in fortissimo ribasso, si inizia a sentire il peso dei tassi di interesse elevatissimi sui mercati finanziari, Bitcoin non la prende bene questa giornata di mercoledì, inizia in maniera negativa, perché ragazzi? Perché ci avviciniamo alla parte centrale di questo ciclo mensile che doveva essere un ciclo mensile corto e tra l'altro debole di cui abbiamo già parlato, ma oggi facciamo un po' il briefing della situazione, intanto spuntano i miei disegni di prima e questa zona qui ragazzi è delicata, quindi nella giornata, nell'inizio della giornata dopo le 3, quando in sostanza diciamo la parte esiatica anche si sveglia, si mette all'opera con il Giappone e le Cine eccetera, il Bitcoin è crashato un pochino, ovviamente qualche punto percentuale. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi facciamo il recap dell'analisi ciclica perché lunedì abbiamo parlato delle ipotesi dei vari scenari di un possibile default in Stati Uniti, default è estremamente improbabile, diciamo così, quindi sarebbe un cigno nero catastrofico, però è sempre bello ragionare su quelle che sono le possibilità, anche perché si capisce un po' la macroeconomia, come funziona, come sono collegati i mercati, quello che si può andare a generare effettivamente quando, insomma se dovrà succedere un evento di questo tipo, che ovviamente io spero di non vedere mai. Detto questo ragazzi, poi c'è un'altra news, questa mattina BitGet ha pubblicato quello che è un nuovo contest di trading, sapete quanto sono affezionato con i contest di trading? La mia community trading con li ha vinti praticamente tutti quelli che abbiamo fatto in Italia e io ne ho vinti uno e mezzo, l'altro fuori quindi ci ho provato, non ci sono riuscito e quindi ragazzi lì partecipiamo di nuovo, è figa questa cosa, comunque quando lo fanno è sempre abbastanza simpatica, vi lascio il link in descrizione sia per registrarvi a BitGet con il promo sconto del 20% sulle fee a vita e il regolamento della competizione che durerà un mesetto, i premi non sono assolutamente male, tra le altre cose si basano anche sulla squadra vincente, poi tra l'altro l'Italia contro l'Europa, l'avevamo già fatto con il ormai dimenticato FTX e avevamo dato una bella performance italiana, quindi ragazzi datevi sotto quello che avete studiato e quant'altro se volete gareggiare, vi serve molto perché vi insegna tantissimo a stare sul pezzo, a capire la vostra psicologia, quindi queste gare alla fine non è tanto il premio che è importante, quanto il mettersi in gioco che vi dà la possibilità di studiare, leggere sempre nuovi libri, fare altre cose, qua qui ragazzi non avete idea ma io sono pieno di roba, cioè ho libri ovunque, non avete idea. Vabbè, allora detto questo vi lascio il link in descrizione, tra altre cose ragazzi in questi giorni sto registrando un cortometraggio con dei amici che sono venuti insomma qui a trovarmi per un progetto che stanno realizzando, ve ne parlerò appena possibile e insomma ci stiamo divertendo, devo essere molto sincero, insomma è stata una cosa carina, quindi ovviamente lì ringrazio anche per la pazienza, insomma siamo diciamo diverso tempo tutti il giorno insieme, quindi tra un po' dovrò scappare a fare le altre registrazioni. Allora giornata di oggi solo 18.30 orario italiano, presidente della Fed Powell parla e dirà le stesse cose che ha già detto la scorsa settimana, però invece un dato che mi interessa molto è questo, il PIL ragazzi atteso per giovedì 25 di maggio è atteso in forte ribasso rispetto al precedente, il precedente era ancora positivo, qui siamo in forte ribasso ma ancora non in recessione, quindi ancora positivo e comunque ampiamente positivo, un per cento per gli Stati Uniti è un buon PIL, non è una cosa stellare ma comunque con un tasso di interesse alla 5% nulla da dire, insomma assolutamente un tasso di interesse molto, un PIL estremamente rilevante. Allora vi faccio vedere quelle che sono le attese per quanto riguarda il tasso di infrazione per il prossimo FONC tra 21 giorni, l'attesa è come vedete nuovamente bilanciata, c'è stato un momento dopo il discorso di Powell che nuovamente i mercati siano bilanciati su un non alza i tassi, io come sapete sono dell'idea invece che Powell avrà lo zampino lungo e che quindi andrà a innalzare i tassi di 1,025, se non lo fa questa tornata prende pausa questo fa, quindi o che rascia poi tutto quanto, l'economia bla bla bla, oppure secondo me un'ultima alzatina la farà comunque se non questo FONC poi nei prossimi mercati un po' iniziano a ragionare come me e stanno sguicciando in percentuale, tra un po' probabilmente qui avremo 50 e 50, certo che la giornata di oggi, magari i discorsi di Powell e i verbali dell'Unione del FONC che vengono pubblicati domani potrebbero essere interessanti, attenti anche alla richiesta di sussidi ma addirittura sono previsti in pari, cioè sostanzialmente 8K in più, niente, quindi ancora l'occupazione non si fa sentire, questo anche merito del PIL che si mantiene alto negli States e questo è importante, c'è un po' più la crisi del dollaro forse di cui dovremmo parlare tra un po' ragazzi perché anche molti paesi dell'Asia hanno abbandonato il dollaro come sistema di scambio, il dollaro ha perso tantissimo in queste fasi come valuta internazionale e non come valore, il valore è accettabile, è un po' sceso ma perché sta facendo un ciclo, ve l'avevo detto, mi pare che era 15 anni, se non la cosa c'è, se non lo ricordo, poi lo vedremo insieme, però alla fine di questa fase mi interessa quando inizia il nuovo ciclo gigantesco del dollaro e lì teoricamente il dollaro dovrebbe recuperare forza, quindi sarà interessante andare a fare il punto della situazione per vedere queste cose, va bene, andiamo intanto a ragionare su Bitcoin e vedere invece l'analisi ciclica, c'è anche Ethereum da guardare perché Ethereum è in una struttura molto interessante, questi sono cicli difficili, il mercato però si è addormentato, a me piace il fatto che il mercato si sia addormentato, perché ragazzi? Perché siamo nella fase calante del ciclo semestrale, questo ve lo avevo già spiegato e non c'è niente da fare, quindi i mercati nelle fasi, vedete da qui in poi, in pratica questa è la struttura del ciclo semestrale di Bitcoin, questa è l'ultima parte del ciclo semestrale di Bitcoin, poi dovrebbe chiudere il ciclo semestrale, io ho messo questo livello ma ovviamente c'è molta volatilità in termini temporali, quindi dovremmo vedere poi se effettivamente ha chiuso, e poi inizia il nuovo ciclo, quindi solo sul nuovo ciclo semestrale potremmo avere una nuova fase di ripresa di fiato, ma prima dobbiamo vedere dove si arriva, quindi dove andiamo a chiudere questo ciclo semestrale per Bitcoin e anche le cripto, a giugno le cripto, alcune criptovalute tra cui Matic, BNB, forse Ethereum, anche se io ho il dubbio su Ethereum, continuo ad averlo, chiudo il ciclo annuale, quindi ancora peggio per le altre cripto, quindi questa fase è delicata, riflessiva e ribassista in termini di sensazione, come si dice, di empatia, empatia ribassista, però a livello di prezzo i mercati stanno reggendo, soprattutto Bitcoin sta reggendo, certo è che non mi aspetto niente di che, perché ragazzi? Perché di solito nella parte finale poi del ciclo, la zampata, no? Ribassista la fa come più o meno in queste zone, magari non la fa di questa entità, però comunque la zampata arriva e in questo caso Bitcoin è proprio su un livello di supporto che diventa, inizia a diventare pericolosissimo ragazzi, pericolosissimo, perché è questo livello qui che vedete, non lasciato, fatta il 12 di maggio, a 25.8, poi recuperata al di sopra del livello di 26.500, che invece è il vero livello di supporto per Bitcoin, perso questo livello di supporto, il mercato andrà praticamente, non dico al livello di certezza, perché non si può mai parlare di certezza in un mondo aleatorio come il trading, però quasi sicuramente andrà a toccare nuovamente la parte bassa di questo canale ribassista, quindi se dovesse farlo oggi o domani potrebbe scivolare intorno ai 25.800, quindi fare, diciamo, una specie di doppio minimo con il minimo del 12 di maggio, oppure addirittura anche arrivare in questa zona qui più bassa, quindi intorno ai 25.500. Teoricamente dovrebbe rompere il minimo del 12 maggio, perché la chiusura ciclica in questione prevede a livello teorico, per l'analisi ciclica ragazzi, la rottura di questo livello di minimo. Questo ci dà anche la possibilità di posizionarci sul mercato in termini da trader, se volete fare trader, io lo sapete non vado in short Bitcoin, però se volete fare trader da posizionarvi per il brevissimo periodo, se volete fare questa attività di trading, io comunque dei cicli ragazzi, dei moduli dei cicli, ne ho parlato nel corso Basic 2.0, ha aggiunto il modulo da un mese e mezzo, due, perché un utente mi ha scritto, Mauro, nelle recensioni alcuni si lamentavano che non c'era il modulo ciclico, lo sapevo, non c'era il modulo ciclico, quindi l'ho realizzato e c'è, adesso da due mesi c'è ragazzi, le recensioni degli utenti sono le vecchie, quindi giustamente non c'era il modulo ciclico, aveva una ragione, quindi noi ascoltiamo sempre, quindi se volete studiare anche le basi, è un modulo Basic, non è un modulo Advanced, quindi è adatto a chi vuole studiare questo tipo di analisi, in descrizione vi lascio sempre comunque il link del corso ragazzi. Tra le altre cose stiamo valutando anche una reopening dell'Academy, secondo un percorso vi darò notizie a breve e sarà di durata brevissima, però facciamo un test, perché poi ve lo spiego con calma, ci interessa capire se un corso insomma di introduttivo sull'Academy può dare aiuto a chi vuole effettivamente seguire la community prima di fare il corso, insomma, anche perché la stragrande maggioranza poi fa sempre i corsi comunque a prescindere dopo che hanno conosciuto la nostra community. Allora, qui abbiamo Nasdaq, tra le altre cose, che va in struttura mensile, che come vedete, teoricamente si avvicina alla sua fase di chiusura, questa zona qui. Allora, Nasdaq deve chiudere il ciclo mensile tra poco, qui siamo a 21 bar, troppo poco, sono 29 giorni, un po' pochino, secondo me, io gli darei un po' spazio fino a fine mese di maggio, quindi un 25 bar e 36 giorni circa. Questo ciclo mensile di Nasdaq ovviamente spingerà un po' i mercati probabilmente ad avere, i mercati crypto ad avere più fase di bassista, è proprio un po' il dubbio che abbiamo in questa zona. Se Bitcoin perde questo supporto, poi scivola e va a chiudere il ciclo mensile. Il ciclo mensile che si chiude di Natura, intorno, io l'ho fatto corto in questo caso, ai primi di giugno, però io ho fatto un ciclo mensile di raccordo ai cicli precedenti, quindi 21 giorni in questo caso è poco ragazzi, però essendo i precedenti stati, vedete, molto corti, è come se avesse fatto in pratica 3 mensili diviso 4 cicli più piccoli. Insomma, è un concetto un po' particolare, però io l'ho fatto corto e lo faccio finire a fine mese di maggio, venerdì 2 giugno prossima settimana. Attenzione però, perché basta un nulla, perché il breakout del minimo del ciclo è difficile, deve arrivare fin qui, però secondo me a livello di close se già scende e chiude il prezzo della giornata al di sotto di 26.000 e insomma 26.003, 26.002 questa zona qui, se chiude intorno a questa zona, secondo me si va per la close del ciclo mensile. A quel punto ci aspettano dei giorni che possono essere un po' difficili, perché tutta questa fase potrebbe essere ribassista proprio a chiudere questa struttura ciclica. Non perdete le speranze però perché le fasi di riposo, di break dei mercati sono utili al mercato stesso per riflettere su quello che deve fare, ripristinare tutte le forze in campo e riacquisire un po' di forza. Tra le altre cose, per una struttura ciclica che chiude un semestrale, questa forma di ribasso è anche oggettivamente non pronunciata, quindi se dovessi darvi la mia opinione a questi prezzi e se Bitcoin non andrà a chiudere questo ciclo sotto i 25.000 dollari, quindi se si mantiene in quella fascia, dimostra anche molta forza. Lo so che sembra strano ragionare così, però per me un mercato che gestisce una fase ribassista naturale, che può essere importante anche, e la gestisce in maniera oculata con questo laterale ribassista, beh io ci metto la firma ragazzi, perché sta perdendo tempo, che è quello che deve fare, perdere tempo e non scendere crollando. Questo è concettualmente il discorso. Poi è ovvio, nell'ultima parte potrebbero esserci delle giornate un po' epiche da un punto di vista di difficoltà, però le andremo poi a valutare. Ethereum, la questione ciclica di Ethereum. Allora sul minimo del 12 di maggio anche Ethereum ha iniziato la struttura ciclica mensile. Ethereum è un po' diverso, Bitcoin ha fatto questo spike, rialzo, vedete come le medie mobili che disegniamo reggono molto a livello di resistenza, non le valutate con il singolo livello, ma vanno valutate in termini di aria ragazzi. Qui per esempio c'è stato uno spike maggiore, però vedete qui invece ancora stanno reggendo. Ethereum tra le altre cose non gestisce bene queste due medie mobili rispetto a Bitcoin, Bitcoin le gestisce meglio, Ethereum è più volatile, quindi ha degli spike sopra le medie, quindi si estende di più diciamo in questo modo. Però vedete anche qui se io vi metto il livello della close, questo livello della close che è 1790 dollari è potentissimo ragazzi, c'è una close al di sotto di questo livello indica, vedete, la continuazione del lower low in close daily di questa fase e quindi la continuazione del trend ribassista iniziato ad aprile, questa fase qui, 1, 2, 3, poi l'altro pump e poi la fase chiusura. Quindi se scende sotto 1790 anche Ethereum conferma secondo me che va in close di questo ciclo mensile che dovrebbe essere anche su Ethereum corto, non grande come gli altri. Quindi io qui vi ho fatto la differenza rispetto a Bitcoin posizionandolo a 30 giorni così abbiamo entrambe le view. Bitcoin l'ho fatto intorno al 2 di giugno, Ethereum un po' più dopo perché c'è la questione del ciclo annuale delle cripto che deve chiudere intorno a giugno. Ovviamente non mi aspetto una data precisa soprattutto per il ciclo annuale però nella prossima settimana quando inizia giugno in pratica andremo a valutare anche quelle altre cripto che sono Binance Coin, per esempio Matic, c'è Gold, CRO, poi anche alcune come Aave e Algorand, insomma sono tutte cripto che teoricamente vanno in chiusura del ciclo annuale proprio in quella fase. Perciò dopo ragioniamo di altseason, dopo che è stato chiuso il ciclo annuale che abbiamo la conferma della chiusura del ciclo annuale, prima no, ok? Dopo ragioniamo di altseason. Va bene, allora detto questo ragazzi, mensile complesso sia per Bitcoin che per Ethereum, giusta fase di riflessione dei mercati, niente di atroce, niente di grave, dove invece possiamo avere uno slancio al rialzo, giusto per par condicio, al di sopra di questo livello di barra di congestione, molto banale, molto semplice. Se questa barra di congestione viene breccata e quindi Bitcoin super è 27.006, 27.007 e si avvicina alla parte alta qui del canale, potrebbe indicare un mensile al rialzo. Un mensile al rialzo a quel punto indicherebbe che qui è iniziato un nuovo ciclo di almeno due mesi, due o tre mesi e che quindi la questione del ciclo semestrale è rimandata, oppure è stata anticipata, quello poi lo valutiamo con calma, ma comunque dobbiamo poi ragionare su una fase diversa da questa, perché usciamo completamente da questo trend ribattista che vedete, quindi a quel punto questo trend lo abbandoniamo e ragioniamo sul futuro, quindi non più seguendo questa strada ma ragionando sulle possibilità che può avere il mercato, poi successivamente seguendo quel nuovo trend che stanno creando, quindi solo sopra 27.7, 26.6, 27.7 arriva questa ipotesi, fino ad allora tutto segue questa linea ragazzi, ancora short, ancora fase ribattista, di riflessione del mercato, attenti ai livelli di supporto intorno ai 25.000 e qualcosa perché sono la parte bassa del canale, questa zona qui, 25.000 e qualcosa, è questo minimo che in teoria dovrebbe rompere se va a fare appunto questa chiusura fin qui. Questo è il naturale sviluppo di questo trend, forse anche troppo semplice, quindi aspettatevi movimenti dei mercati, aspettatevi un po' di truppa dei mercati, magari è già chiuso il ciclo, non ci siamo accorti bene così, a quel punto poi si diva a long. Va bene, per oggi è tutto, fatemi sapere voi cosa state facendo in questa fase, come state gestendo in questa fase, vi ricordo la competition di Bitcoin, vi ricordo il link in descrizione, noi ci vediamo nel prossimo video, vediamo che dice Powell stasera, ciao!